ragazzi alla fine nonostante mi sono operato la gamba ho visto uno scempio che mi va di parlare lo stesso perché dolore non dolore non mi interessa io sono veramente stufo sono veramente stufo di questa Juventus vi dico già che la live reaction non uscirà neanche perché non ho la possibilità purtroppo di stare un'ora e mezza un'ora e 40 seduto su questa poltroncina qua perché dopo un po' mi fa male la gamba ora finché si parla di 10 minuti di video posso anche registrarli ma per quel tipo di video di ragazzi no se era il vecchio Ale senza una gamba operata ragazzi smadonava come niente oggi non l'ho fatta perché non sono abbastanza in condizione ma sono in condizione per i due paroline ripeto io veramente sono stufo di questa Juve sono stufo di certi giocatori nei minuti finali ho visto veramente ragazzi un'Alexander imbarazzante cioè Alexander dal posto di Pellegrini e ha perso tre palloni cioè uno lo lascia lì col tacco l'altro chi gli ha guardato la palla non tira neanche col destro capisco che sei mancino ma provaci no non tira neanche tra poi prendiamo un contropiede assurdo non ce la faccio più Bentancur che entra non cambia nulla Rabiot ragazzi Rabiot è quel giocatore lì che ti fa una bella cosa nel primo tempo come strappare un pallone no perché Rabiot nel primo tempo strappa un bel pallone ruba un bel pallone dribbla un giocatore del Venezia e arriva anche al tiro e poi Rabiot è lo stesso che invece poi non riesce neanche a fare un appoggio da su terra perché quando cerca di fare l'appoggio ragazzi la palla gli si alza uno che pia 8 milioni all'anno io ho visto Sule ragazzi ma fate giocare Sule tutta la vita Sule ragazzi Sule all'ottantacinquesimo quando è entrato ha fatto vedere più qualità di Rabiot e Bentancur messi insieme Mattia Sule ragazzi fate entrare questo Sule fatelo giocare spazio ai giovani uno spazio che Caio Giorgio oggi ha avuto perché un ennesimo infortunio di Dybala ragazzi anche qui mi sono un po stancato perché Paolo Dybala è veramente giocatore con qualità eccelse però è troppo fragile ragazzi troppo fragile oggi al decimo minuto esce ennesimo infortunio non so se muscolare o al ginocchio però comunque ragazzi c'è che sfiga c'è che sfiga c'è veramente sfiga 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 entra al suo posto Caio Giorgio che oggi ragazzi ce l'ha avuto la possibilità Caio Giorgio di poter dimostrare quello che è impatto abbastanza buono all'inizio che ha avuto anche un'occasione che con diciamo il call esterno ha rubato il tempo giocatore di Venezia però la pala esce di poco alto su un bel cross di pellegrini pellegrini comunque ennesima volta promosso tutta la vita il pellegrino lo toglierei mai anche se è stanco morto perché io quella merda l'ex anno non voglio vederla e Caio Giorgio si è procurato qualche fallo si è qualcosina ha fatto ma troppo poco infatti poi anche se è entrato al posto di Dybala ragazzi al posto di Ken esce Caio Giorgio non è uscito Morata quindi non dico che è una bocciatura da parte di Allegri perché il giocatore è giovane ci mancherebbe però diciamo che non è nato benissimo oggi poco coinvolto nel gioco della Juventus primo tempo dominato primo tempo possiamo dirlo a livello di occasioni perlomeno dominato infatti la cosa che ne buttiamo sempre dentro solo una non va bene perché quando tu non chiudi le partite io questa cosa qualità mille volte quando tu non chiudi le partite poi alla fine comunque l'altra squadra è sempre viva e basta un'occasione che anche se poi nel secondo tempo ragazzi la Venezia è aumentato è migliorato ci ha messo alle strette quindi è giusto il pareggio perché primo tempo meglio noi secondo tempo meglio loro il pareggio è giusto però se tu non ammazzi le partite questo succede questo è il rischio ragazzi primo tempo dominato noi ragazzi perché comunque abbiamo avuto il tiro strozzo di Dybala l'occasione di Caio Giorgio poi siamo riusciti a passare comunque in vantaggio con Morata bravo Morata comunque attaccare il primo palo come davvero a punta che attacca il primo palo ma bravo anche Pellegrini mette ovviamente un bel cross al centro e poi Morata con la punta anticipa il difensore del Venezia e trova il gol poi abbiamo avuto anche altre occasioni nel secondo tempo ragazzi come col tiro di quadrado che ha tirato da fuori fuori aria dove la palla esce di poco un altro giro di quadrado ragazzi dove lì la palla esce di tanto così ma quadrado potrebbe avere anche un'altra soluzione ovvero crossare mezza Morata che era da sole non l'ha fatto purtroppo ha preferito tirare e non è riuscito comunque a far gol quindi non abbiamo creato tanto nel primo tempo però creiamo tanto ma poi concretizziamo poco e questo è il nostro problema concretizziamo poco ragazzi secondo tempo invece è uscito il Venezia è uscito il Venezia ci ha messo alle strette ragazzi perché nel primo tempo il Venezia ha tirato in porta a zero ha fatto dei tiri fuori da fuori dall'aria no una volta con Henry o Henry come si come si pronuncia e due volte con un altro giocatore che adesso non mi ricordo il nome però sempre fuori alto sopra la traversa secondo tempo invece il Salgon in Cattedra perché Salgon in Cattedra il primo tiro di Busio ragazzi centrali però è il suo primo tiro poi ragazzi arriva al gol di Aramu praticamente un passaggio per Aramu leggermente fuori dall'aria di rigore nessuno va a chiudere il giocatore lui tira di prima col mancino un bel tiro a giro ragazzi Scesni coperto da Bonucci perché Bonucci lì ragazzi è di e si toglie anche leggermente perché cerca di togliere il braccio probabilmente che tu togli il braccio cerca di metterci la testa perché Bonucci non era così lontano da quel pallone poteva anche intercettare quel tiro invece no era solo lì che copriva copriva la visuale di Scesni non è neanche uscito a provare a chiudere il tiro Scesni era l'ultimo la tocca pure ragazzi però la palla poi va in porta perché è ben angolata bel tiro dentro di Aramu lo stesso Aramu che poi con un controllo orientato prova a fare persino un gol dal centrocampo e se ci segnava così ragazzi era veramente il colmo Venezia che poi ci ha provato anche con Harry se non sbaglio un tiro di destro fuori poco dallo specchio della porta di Scesni anche lì e noi nel secondo tempo cosa abbiamo creato abbiamo creato giusto il tiro di Bernardeschi ragazzi dove Venezia cerca di spazzare via un pallone un cross Bernardeschi comunque riesce di petto a stopparla e a tirare al volo un tiro fortissimo coordinazione perfetta lì c'è un grandissimo riflesso da parte di Romero ragazzi che la parla manda a calcio d'angolo è vero che Giuri Bernardeschi purtroppo era avverso Romero qualora era angolato avessi trovato comunque uno dei due angoli Romero lì non ci sarebbe mai arrivato però comunque va sempre prima del riflesso perché quella palla lì piaceva veramente forte noi questi abbiamo fatto nel secondo tempo ragazzi noi questo abbiamo fatto non mi ricordo altro poi sono entrati cadaveri perché poi è entrato Bentancur non è successo niente è entrato Alexandro perdono ancora non è cambiato nulla poi ragazzi non è cambiato nulla che dire volevamo fare 5 su 5 io da Juventino mi aspettavo dopo le prestazioni di Ridenti prima di Genova Salernitana 5 su 5 perché tu da Juventus Salernitana Genua Venezia che è pareggiato purtroppo oggi Bologna che poi è forte Bologna come squadra però dovresti comunque cercare lo stesso di vincere per la situazione grave in cui sei in classifica e Cagliari io questi 5 partite qua prima della pausa natalizia ma spero che la Juventus facesse Filotto perché la Juventus doveva fare Filotto e Filotto non l'ha fatto ragazzi perché ci siamo già fermati a Venezia dovevamo fare 5 su 5 e non ci siamo riusciti ragazzi 5 su 5 con squadre sulla carta abbordabili con tutto il rispetto per queste cinque squadre ma sulla carta abbordabili dopo la figura del cavolo che hai fatto prima tu non riesci neanche a fare a 5 su 5 dove vogliamo andare ragazzi quarto posto dove vogliamo andare a Lourdes dovremmo andare ragazzi a farci un po bene ieri tutti quanti alla passenta benedetta perché dove vuoi andare dove vuoi andare sempre sto cazzo di un gol e oggi non do neanche la coppa Morata perché ragazzi Morata ha segnato si è sbattuto ha fatto però fai sempre un gol fai sempre un gol cioè non puoi basarti sempre sul fatto di fare un gol perché ci sono le partite che ti va bene e vinci 1 a 0 su quelle partite che invece poi alla fine non la chiudi sì mi direte male salire in Italia e Genoa hai fatto due gol sì ma quando sono usciti due gol ragazzi salire in Italia e Genoa squadre comunque inguardabili da come ora perché sono impresentabili come squadre quanti gol hai fatto uno e poi nel finale hai fatto il secondo col Genoa uguale ne hai fatto uno ma nel finale all'81esimo all'83esimo l'hai chiusa la partita non puoi non puoi sempre far così non puoi e niente ragazzi io ho detto tutto il mio piccolo sfoghetto perché veramente non si può verrà io così passate sul link di istruzione della bari di tutti i cianni mi raccomando iscrivetevi a quel canale passate anche sul link da maglia ragazzi ci vedete quelli sportivi dove c'è roba di ottima qualità a poco prezzo se dovete accorgere il sconto A e il tuo maiusco per i 15 euro di sconto sulla spesa che farete e se su parte sono 9 euro di spesa la consiglia sarà gratuita lasciate un bel like ragazzi se questo video vi è piaciuto ragazzi anche per lo sforzo perché già inizia a farmi male la gamba quindi adesso stacco commentate qui sotto in commento per sapere voi un po' cosa pensate appunto di venezia juventus ragazzi perché mamma mia che partita e se facevi ragazzi anche iscrivetevi al canale che è importantissimo non costa nulla per voglio vedere tanto ragazzi basta che fa clicchi su iscriviti se siete iscritti senza costa di nulla mi spetta un casino e vi ringrazio se lo fate con i video per i vostri mi fai iscrivere anche loro e a te che voi notifica questo è un bel video ragazzi noi ci vediamo dopo il post partita con 10.000 anche intanto 10 minuti non mi fanno male la gamba riesco ancora a resistere quindi ve li porto post partita per lo meno a meno quelli domani se avrò voglia e tempo farò le pagelle fino alla fine sempre forza jugo ragazzi si sostiene sempre la maglia ma i giocatori probabilmente cambiare un po' aria allegri inizia a valorizzare sulle perché sulle veramente tanta roba bella aria 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 aria